Bene, piccolo disclaimer iniziale, questo non vuole essere assolutamente un video politico che sia repubblicano o democratico in quanto non è il mio interesse, non mi occupo di politica non mi interessa neanche più di tanto la politica e quindi non è l'argomento di questo video infatti questo video è più sulla parte di advertising, marketing, psicologia o social media marketing anche in realtà, relativa al mondo della politica in questo caso specifico Allora, cosa è successo? Qualche giorno fa stavo scrollando il feed di TikTok e tra tutti i video divertenti, comici, tipici di TikTok ho iniziato a vedere alcuni video di un paio di ragazzi, due nello specifico in particolare un ragazzo e una ragazza, tutti e due con il cappello di Donald Trump con la scritta Make America Great Again, che parlavano di fatti di attualità facendoli vedere appunto in sovraimpressione o parlando di alcune situazioni connesse agli Stati Uniti successi nella scorsa settimana però con un leggero criticismo a favore di Trump avevano il cappellino in testa quindi era evidentemente una posizione politica presa direttamente a favore di Trump e appunto dei repubblicani Che cosa c'è di strano? Allora, consideriamo e partiamo dal presupposto che da sempre, almeno da anni i social media sono il luogo in cui viene promosso qualsiasi prodotto e qualsiasi servizio e occupandomi io stesso di marketing e di pubblicità guardo sempre tutto con un occhio critico o con un occhio di una persona che continuamente ha la ricerca di spunti, di riflessioni e appunto di idee che si possono prendere e utilizzare e in questo caso mi ha fatto particolarmente riflettere questi TikTok perché richiamano al documentario che non so se avete visto, che ho visto anche l'anno scorso, che si chiama The Great Hack su Cambridge Analytica in cui tutto il documentario verte su queste elezioni politiche che sono state fatte nel 2016 in cui praticamente le elezioni sono state tra virgolette manipolate e l'opinione pubblica è stata quindi indirezzata tramite Facebook advertising quindi sono state create delle campagne ad hoc per manipolare tra virgolette l'opinione pubblica di una certa tipologia di persone con un certo tipo di messaggio sfruttando appunto il database di Facebook e tutte le informazioni che Facebook ha su di noi quindi il documentario se lo vedete fa scalpore però se ci pensate, se ci pensiamo, è la normalità per chi si occupa come me ad esempio di marketing perché noi siamo abituati ogni giorno a targhettizzare campagne su uno specifico pubblico per promuovere e identificare appunto il pubblico migliore per promuovere dei prodotti e servizi e in questo caso le elezioni politiche quando vengono gestite dalle campagne elettorali sono dei prodotti che devono essere venduti, cioè deve essere venduto il candidato del momento quindi in quel caso è stato Trump e appunto tutto il documentario verte su questo lo scandalo è scoppiato quando si reputava appunto poco etico ovviamente manipolare in un certo modo l'opinione di alcune persone per cercare di fare cambiare idea su un determinato partito politico e poi spingerli a votare in sede di elezioni il partito che stava sponsorizzando i contenuti quindi non voglio neanche soffermarmi sul lato etico, morale della situazione quello che mi ha fatto appunto riflettere, ripeto, è il fatto che si sia spostata l'attenzione su un'altra piattaforma con una metodologia completamente diversa perché mentre su Facebook c'è il formato pubblicitario tradizionale più famoso che è quello del feed dove praticamente gli utenti sono abituati a interagire con un post sponsorizzato che sia video o un messaggio diretto creato appunto dalla pagina stessa o dal presidente stessa in questo caso o dal prodotto o dall'azienda su TikTok facendo leva sul mondo dell'influencer marketing dove poi tra l'altro tra Instagram e TikTok è esploso negli ultimi anni si fa leva non sulla persona ma si fa leva sul pubblico di un influencer che in questo caso non ho idea se è stato pagato o no se sia un programma a lungo termine dettato o controllato da una campagna elettorale per cercare di facilitare e presentare appunto un particolare candidato come ad esempio il caso di Trump la cosa strana è che è un advertising più o meno sottile ok certo c'è il cappello col messaggio diretto il cappello rosso che identifica subito il partito politico il messaggio ma non è espressamente un contenuto sponsorizzato cioè quello che voglio farvi capire è che non è un messaggio sponsorizzato che vediamo nel feed in cui si invitano gli elettori a votare per Trump nelle prossime campagne elettorali ma è una persona che ogni giorno posta un sacco di contenuti tra l'altro se volete potete andarla a vedere e invita le persone a ragionare su determinati contesti quindi anche questo in un certo senso è una specie di content marketing per cercare di catturare l'attenzione di elettori in un contesto completamente nuovo quindi un nuovo playground come si dice quindi non è il solito modo di fare pubblicità su Facebook, Instagram o Google Ads o YouTube Ads in questo caso si prendono degli influencer su una piattaforma dove già si vede poco advertising e cercare appunto di convogliare o di attirare l'attenzione di un determinato target di persone a votare fondamentalmente e per quale motivo sono state fatte due persone? perché ci sono due persone cioè una ragazza e un ragazzo perché appunto ognuno ha un target diverso probabilmente il ragazzo sarà seguito più da ragazze e la ragazza più da ragazzi o viceversa stanno probabilmente facendo uno split test per capire anche in termini di engagement e di follower e di watch time con tutti i dati e le statistiche di TikTok quali sono quelli che portano più attenzione quindi alla luce di Cambridge Analytica probabilmente la campagna elettorale nuove si muoveranno su questi fronti quindi non sarà più soltanto l'interesse ad esempio di catturare l'attenzione di un pubblico attraverso le solite campagne pubblicitarie di Facebook magari ripeto essendo molto limitata adesso perché sono molto più sensibili a questo tipo di pubblicità di contenuti adesso dopo che è uscito lo scandalo di Cambridge Analytica e quindi si sono spostati su una nuova piattaforma dove probabilmente è ancora poco regolamentata e si è ancora più o meno liberi di giocare un po' come si vuole e questo è probabilmente una strategia che qualcuno che si occupa dei social media della campagna elettorale di Trump o della Casa Bianca o dei repubblicani sta mettendo in atto per appunto cercare di capire come muoversi sicuramente hanno alle spalle milioni di dollari per finanziare progetti del genere e sicuramente adesso non voglio dirlo al 100% perché non ne ho le prove e altro però sicuramente questi due influencer o altri mille che ce ne sono vengono ovviamente pagati probabilmente per sponsorizzare questi contenuti e parlare appunto cercando di educare appunto questo pubblico che è quello della generazione Z barra millennials che c'è su TikTok a votare quindi probabilmente il loro target ovviamente non è quello di 12-13 anni che non possono neanche votare ma è più quello di 18 in su che sono ovviamente presenti su TikTok e sono quelli che a novembre avranno la possibilità di andare a votare e rinnoveranno eventualmente il voto a Trump ripeto non voglio prendere nessuna posizione e non è questo un contenuto politico se sia giusto o meno essere a favore di Trump o contro Trump dopo tutta anche la situazione che è successa negli ultimi mesi negli Stati Uniti e con tutti i problemi che ci sono in questo momento negli Stati Uniti è semplicemente una riflessione per analizzare anche il mondo dei social media e del mondo della pubblicità del marketing dove sta andando perché come vi ho spiegato anche nei miei video il modo più diffuso e più conosciuto è ovvio tra virgolette oggi di fare pubblicità è quello attraverso la sponsorizzazione dei contenuti con Facebook o Instagram Ads ma ormai la maggior parte dei contenuti che vengono sponsorizzati sono pubblicizzabili anche attraverso l'influencer e l'influencer marketing quindi come avviene per un prodotto anche per un prodotto politico in questo caso bisogna stare molto attenti al tipo di comunicazioni che si usa e al tipo di influencer che si decide di coinvolgere perché ovviamente l'influencer in questo caso è un portavoce vero e proprio di un partito politico deve stare molto attento a tutto quello che dice e tutto quello che pensa o come si comporta ripeto non so le dinamiche in questo caso come si risolvono come funziona nello specifico però sicuramente considerando che oggi TikTok è una delle app più scaricate in assoluto con un enorme database e un enorme user base anche che sta crescendo sempre di più potenzialmente potrebbe essere diciamo spostare l'ago della bilancia da una parte o dall'altra nel momento in cui verranno fatte le lezioni su TikTok dove questi video vengono visti da centinaia di migliaia di persone anche ogni giorno quindi sono persone che ogni giorno vedono nuovi video ogni giorno sentono questo messaggio che li bombarda in pratica e provate a immaginare se non avete una posizione politica siete giovani e ogni giorno vedete un messaggio pubblicitario che vi bombarda avete il vostro feed dove vi viene proposto questo messaggio pubblicitario ed eventualmente iniziate a prendere una posizione politica e poi votare a favore di un candidato nelle scorse settimane mi è capitato anche di vedere sul feed di Facebook e di Instagram pubblicità diretta dalla Casa Bianca di Donald Trump che sponsorizzava merchandising e prodotti con l'obiettivo di raccogliere fondi per finanziare la propria campagna elettorale quindi è ovvio che negli Stati Uniti la campagna elettorale è un vero e proprio business in cui si muovono milioni viene fatto marketing e pubblicità e dall'altra parte bisogna reinvestire i soldi che ti ritornano da donazioni da merchandising come in questo caso e da fondi privati e pubblici che sostengono un candidato piuttosto che un altro è un gioco di potere ovviamente dove ci sono in ballo milioni di dollari interessi di multinazionali e di aziende che neanche probabilmente immaginiamo e quindi ovviamente sapendo che oggi l'attenzione delle persone è al 100% sui social media ovviamente è un campo di battaglia in cui si scontrano ideologie e contenuti anche proposti in modi diversi quindi questi erano i miei due sendi oggi mi sembrava un regolamento interessante e una cosa interessante anche questa da notare per far capire che veramente oggi i social non servono soltanto per vendere prodotti ma vendere idee, ideologie che ci possono anche spingere a votare e a prendere una decisione che può cambiare non soltanto la vita della nostra vita personale ma quella di un paese bene questo è quanto dal video di oggi dal vostro webmate ci vediamo al prossimo video ricordatevi di lasciare un bel like mi raccomando fatto, perfetto iscrivetevi al canale se non siete ancora parte di questa community e ci vediamo al prossimo video